L'indagine sulle ferie non godute e pagate dal comune di Barletta a tre dirigenti ha per ora solo valenza conoscitiva. Un atto dovuto, quello della magistratura tranese, guidata dal procuratore Carlo Maria Capristo. La notizia criminis è infatti derivata dai principali organi di informazione. Nel fascicolo, quindi, ci sarebbe solo materiale giornalistico. Il procuratore Capristo ha affidato le indagini al sostituto Giuseppe Maralfa. Per ora non ci sono indagati. Gli ex dirigenti Santa Scommegna e Gaetano Domenico Pierro, nonché Alessandro Attolico, cessato dal servizio e poi tornato dirigente con un nuovo contratto a tempo determinato, non devono rispondere di alcun reato. Le attenzioni del sostituto procuratore Maralfa si potrebbero concentrare per ora solo sulla tempistica della liquidazione delle somme, un totale di quasi 100.000 euro. Somme erogate il 27 settembre, prima della firma della determina, arrivata il 1 ottobre della sua pubblicazione, avvenuta il 12 ottobre. Quest'ultima è risultata peraltro incompleta perché non era indicato da quale capitolo dovessero essere prese le somme necessarie alla liquidazione per i tre dirigenti. Dettaglio, se così si può definire, che non poteva essere trascurato ed infatti recuperato con una seconda pubblicazione, avvenuta il 15 ottobre. La questione, che come detto per ora non ha alcun rilievo penale, ha rappresentato per l'amministrazione comunale di Barletta la miccia che ha fatto deflagrare la maggioranza portando allo scioglimento del Consiglio Comunale e al voto previsto per la prossima priva e vera.